Buon salve sera notte e giorno a tutti signori telespettatori e sono in compagnia di Tia Ciao Luke, ragazzi benvenuti in questo piccolo video aggiornamento Facciamo questo video appunto ragazzi, questo mini video per annunciarvi che tra poco a breve si disputerà la quinta partita di questo fantastico torneo di Counter Strike Vi ricordo anche per non fare poi altri video, si faranno tutti i giorni le partite in live alle 17 e alle 20, giusto Tia? Esatto Cune volte anche nel mezzo tardo pomeriggio verso il 19, comunque sia vi metto il link in descrizione sia del tabellone con tutte le partite orari che del live dove faremo queste partite Ragazzi che dirvi, ci vediamo tra poco in live, vi aspettiamo numerosi e un bacione e un abbraccio come al solito da Tia e Luke è tutto Ciao a tutti ragazzi